buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo sigmanes podcast video oggi andremo a vedere il programma cover of load che ci permette di agevolarci nelle operazioni di sbancalamento dei nostri pezzi che vengono tagliati con i nostri macchinari il software si presenta con un'interfaccia molto semplice come possiamo vedere perché è pensato per essere utilizzato direttamente da un tablet o comunque anche da un pc la peculiarità di questo software è come dice il nome stesso la possibilità di andare a colorare quelli che sono i nostri nesting per esempio in questo caso ne abbiamo un nesting fatto su una rimanenza ma se andiamo a prendere un nesting standard può essere questo qua su un laser noi possiamo andare a dividere tutti i nostri pezzi per l'ordine di lavoro piuttosto che per il nome icona in quel caso chiaramente se li divide per codice piuttosto che per tante proprietà che noi possiamo andare a selezionare e che i più i più esperti di sigmanes conoscono benissimo come possiamo vedere faccio un esempio appunto per il discorso dell'ordine di lavoro il nostro operatore potrebbe andare a posizionare i pezzi che sono stati tagliati e sbancarli direttamente sui vari pallet che magari sono destinati alla commessa piuttosto che al cliente differente per quanto riguarda invece tutte le informazioni che possiamo avere del nesting abbiamo la possibilità di vedere i codici le quantità che erano in ordine le quantità che sono all'estate e poi andare a personalizzarci tutte quelle che vogliamo visualizzare abbiamo anche l'anteprima del nostro codice e abbiamo anche la possibilità non da sottovalutare che per le macchine che non sono in 4.0 quindi in maniera manuale possiamo andare a selezionare lo start e lo stop della fase di taglio per andare poi anche per esempio a gestire quello che è il tempo di sbancalamento dei pezzi dopo che la macchina le ha tagliati qua abbiamo la possibilità di andare a dire chi è che sta eseguendo le operazioni quindi inserire un nome dell'operatore chiaramente personalizzabile e secondo me l'altra funzione molto comoda in quello che è l'ecosistema di sigmanest è la possibilità di andare a rifiutare dei pezzi attribuendo anche qual è la motivazione del pezzo che è stato tagliato magari di dimensioni errate e andare a selezionare uno o più pezzi che appunto non sono da rifiutare di modo che io poi negli ordini di lavoro in sigmanest mi ritrovo ancora le quantità da produrre tenendo conto appunto di quelle che sono state rifiutate vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio tutti i nostri contatti tra cui appunto anche la mail numero di telefono nel caso in cui vi fosse bisogno di delucidazioni su quello che abbiamo visto vi ringrazio vi aspettiamo per il prossimo video